Claudio Pio, grande vittoria, è una stagione sicuramente positiva quella 2012 che si conclude con il Gran Gala dello Sport. Sì, diciamo che ho risultato a quanto inaspettato perché è venuto grazie a dei risultati buoni in gare nuove e a un certo punto della stagione siamo trovati a lottare e abbiamo proseguito riuscendo a ottenere questo importante traguardo. Un traguardo che è riuscito ad arrivare a raggiungere Claudio Pio malgrado un'attività professionale che lo tiene impegnato molto. Come riesce a coniugare la passione per i motori con il lavoro? Purtroppo sì, a causa anche del problema lavorativo per quale lavoro fuori regione bisogna fare parecchi sacrifici e cercare di giostrare quei pochi giorni a disposizione che si hanno per far riuscire tutto nel migliore dei modi. Poi la fortuna fa anche la sua parte perché se non ci sono imprevisti si riesce con un po' di sacrifici come detto in precedenza ad ottenere dei buoni risultati. Bisogna però premere sul gas? Sì, bisogna premere poi ci serve la pazienza della famiglia, delle persone che ti appoggiano che grazie a Dio sono sempre disponibili e ci aiutano per fare anche in breve tempo tutti i sacrifici del caso. Perfetto.